Emma Marrone Emma Marrone, l'appello accorato su social Emma Marrone, il nuovo impegno e l'invito su Instagram. Settimane di relax tra sole e mare per Emma Marrone. La coach di Amici 16 sta trascorrendo la sua calda estate a Ibiza. Le bellezze dell'Isola delle Baleari continuano a sorprendere la cantante Salentina. Sempre attivissima su social, l'artista regala ai suoi fans scatti di vita quotidiana. Nonostante il sol leone, la trionfatrice di Amici 9 non si ferma. Poche ore fa su Instagram Emma ha postato un video in cui invita i suoi sostenitori a partecipare a un evento che si terrà il prossimo 5 agosto. A commento del video, visibile in basso, queste parole. Importante vulcila e forzieria non mancate. Sabato 5 agosto si terrà infatti il concerto benefico Everi Kill This Me Kill Life or Syria, che vedrà tra i protagonisti Emma Marrone, e si terrà a Montalto di Castro, parco archeologico di Vulcia Biterbo. Accanto alla cantante Salentina, comici, attori e altre icone della musica. Emma pronta per un nuovo impegno, l'emozione e l'invito. Emma Marrone ha ricordato su Instagram l'evento in vista per il prossimo 5 agosto, un concerto a favore dei bambini della Siria. L'incasso della serata servirà a costruire una scuola sul confine turco-siriano per i bambini rifugiati della Siria. Con un video, mostrato in basso, Emma ha spronato i suoi followers a partecipare. Tra i cantanti ospiti della serata anche Irene Grandi, Diodato, Marina Ray, Daniele Silvestri e tanti altri. Non mancheranno comici del calibro di Paola Minaccioni e Lillo. Momenti musicali, sketch e monologhi, coloreranno la serata del 5 agosto a Montalto di Castro. Tra gli ospiti anche numerosi attori come Anna Foglietta, Lino Guanciale, Giulio Berruti, Edoardo Leo, Neri Marco Re, Pierfrancesco Favino, Tosca D'Aquino e Vittoria Puccini. In attesa dell'appuntamento previsto per sabato 5 agosto, Emma Marrone prosegue le sue vacanze da singla Ibiza, in compagnia degli amici.